Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto, preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto, dalla Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi Maria, madre del buon consiglio per i giovani. Il suo sì, nella Santa Casa, ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed è la concepita, oh Padre lo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il verbo si fece carne. E vede ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Ave, piena di grazia. Ave, piena di grazia. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Pater nostro, qui è sinceris, santificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat volontas tua, sicut in cielo et in terra. Panum nostro, un quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut e nos dimitimus debitoribus nostris, e ne nos in ducas in tentazione, sete libera nostra malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedita tui mulieribus, ete beneditto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, madre di grazia, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli dei secoli, ame. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù, che annuncia il regno di Dio e predica la conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù su un alto monte. Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. In Tegrino. Salamna, Achio, Maria, Amsaggaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsaggaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsaggaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsag, Gaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsag, Gaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsag, Gaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsag, Gaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsag, Gaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Incav'anistiz, Tabarake, Echina, Echir, Sofri, Yassun, Tabarake, Echina. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamna, Achio, Maria, Amsag, Gaz, Malachi, Ziyab, Hir, Misachiyu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Mater Misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exulei sfilii lieve. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ed iesum benedictum fruttum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemes, o pia, o dulcis virgo Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza. Madre purissima, Madre sempre Vergine, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine degna di lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Arca dell'Alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Refugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vere. Regine, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Prega per noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degne delle promesse di Cristo, preghiamo. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te, tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti i tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo. Questa è un'ora buia, oh Madre, e in questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore, sensibile ai nostri problemi. Esso non è stato esente da inquietudini e paure. Ora, Madre, prendi ancora una volta l'iniziativa, prendila per noi in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana, che ha smarrito la via della pace, chi ha preferito Caino ad Abele e, perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera di casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la follia della guerra, che semina morte e cancella il futuro. Sotto la tua protezione. Cerchiamo il rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le stupriche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace, Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, particolarmente sui soffarenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, Ave Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario Grazie per aver pregato insieme con noi Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela Quella fiamma sarà il segno della tua fede della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana